Prenderà il via il 14 gennaio la stagione di prosa 2023 del Teatro Marrucino di Chieti e si concluderà il 21 maggio. Nove spettacoli di altissima qualità saranno portati in scena da nomi illustri del teatro e del cinema come Edoardo Siravo, Alessandro Preziosi, Nancy Brilli, Edoardo Leo, Ambrangiolini, Cesare Bocci, Nancy Brilli, Lello Arena e Lino Guanciale, solo per citarne alcuni. Dai grandi classici alle nuove scritture, il filo conduttore della stagione di prosa 2023 del Marrucino sarà l'insegna della qualità per attrarre un pubblico sempre più ampio, come spiega Davide Cavuti, curatore della stagione di prosa del Teatro Marrucino. Una stagione molto ricca e variegata, avremo ospiti illustri di estrema qualità come Alessandro Preziosi, Massimo D'Apporto, Antonello Fassari, Lino Guanciale, Nancy Brilli, Ambrangiolini, quindi tantissimi nomi per un pubblico variegato. Sono felice di poter allestire un cartellone di questo genere, ringrazio la deputazione teatrale ovviamente che ha dato fiducia a questo mio lavoro. E avremo spettacoli che hanno un comune denominatore, la qualità delle messe in scene e poi un percorso sui grandi test in linea con quello che abbiamo tracciato l'anno scorso. Tantissimi spettacoli, nove in totale, otto spettacoli più una serata speciale che è denominata il Cinema Incontro e il Teatro con Edoardo Leo. E concluderemo proprio con lo spettacolo di Lino Guanciale e Francesco Montanari. Ecco, potremo assistere al Marrucino ai monumenti letterari messi in scena dei grandi autori senza tempo, ma anche alle nuove scritture degli autori contemporanei che secondo me sono un ottimo prologo per avvicinare il mondo dei giovani a teatro. Un teatro non solo vivo, un teatro che diventa in maniera certificata il punto di riferimento della cultura in Abruzzo e non solo direi ormai per quella che è la programmazione, quello che è il palinsesto che ha un'autorevolezza evidentemente di carattere internazionale. L'altro giorno con la concertistica uno dei più grandi violonisti al mondo, Maxim Wengerow, si è esibito in questo teatro. Continuiamo con una straordinaria stagione lirica che sta portando il tutto esaurito in ogni rappresentazione e si procede oggi con la presentazione ringraziando il direttore artistico Davide Cavuti di altissimo livello perché Chieti vuole confermarsi come la stagione scorsa un riferimento anche per la prosa. L'obiettivo del CDA del teatro era di fare una stagione sicuramente non inferiore a quella dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo cercato di migliorarci. Cosa connota la stagione 23 rispetto a quella passata? Forse è una maggior leggerezza dei temi trattati, è una maggiore propensione ad andare verso un pubblico giovanile e quest'anno tra l'altro la stagione di prosa è soltanto un prologo perché poi ce ne sarà un'altra estiva che ovviamente stiamo già attrezzando. Grazie a tutti.